eccomi ragazzi allora come state spero bene allora altro nuovo video che riccio questa volta non mi devo truccare però mi trucco in un altro video ancora per questo un video solo dove parlo un po con voi allora dunque innanzitutto volevo dirvi che oggi è una giornata un po di pioggia ma vabbè non ce la teniamo così per come allora innanzitutto voglio dirvi che ringrazio il cuore che mi sta adesso non tante e che avete fiducia a me e mi fidate di me un attimo eccomi allora oggi sono tutta bella struccata però appena posso un trucco promesso comunque i trucchi rifiuti qui da questa parte è la mia bella pochettina già mi piace questa pochettina e tantissimo adesso così non le posso più vedere così ma tra poco magia le farò sparire nel senso che devo mettere qualcosa devo farvi parlare normale per così non possono soltamente stare già niente allora mi avete già vestita stamattina perché prima era in pigiama ma adesso in un altro nuovo video sono in come si dice sono già vestita perché non mi piace stare in pigiama prima avevo invito di stare sempre in pigiama nei miei video ma adesso ho detto no non è il caso sei su youtube italia vestiti che è meglio infatti ha fatto così già e niente quindi cosa non pare adesso niente l'ambulanza sottofondo che bello sottofondo che abbiamo e vabbè chi era ora vediamo un po cosa posso fare ho messo aspettate un secondo ci sarebbe potuto togliere anche i piedi del mento io non ne ho tanta voglia vabbè e poi per giunta vi riparisco anche in questo video mi sta per riparare il ciclo quindi vabbè no comment non so se potevo dirle però ma se potevo dirlo però me l'ho detta vabbè non viene per il cavolo nessuno però queste cose non so se si dicono vabbè solo vogliamo che è meglio e niente ok eccomi qua allora dunque 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 cosa devo dirvi ah ieri sono stata a fare tutto il giorno la spesa e ha comprato delle cose belle e buone sì poi no aspetta ma sono andata a fare spesa per il cappio sto dicendo cosa sto dicendo sono andata a fare delle commissioni per me e poi sono andata anche ovviamente sempre per commissioni in farmacia e niente aie 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 mi sa con un certo marchese sta facendo sentire non è bella la cosa però vabbè è la natura della donna vabbè no commenta niente ben ragazzi adesso vi lascio ci vediamo al prossimo video ciao e a presto mettete un bel like il supporto un commentino e attivate la campanella allora decidiate di scrivervi